In questo momento particolarmente difficile per tutti, l'amministrazione comunale di Ogliastro Cilento non dimentica i suoi piccoli concittadini. Il Natale è lo stupore e la meraviglia che ritroviamo negli occhi dei bambini e questa magia, nonostante il periodo che preoccupa, va difesa e protetta. I piccoli hanno il diritto di sentire e vivere l'atmosfera natalizia nonostante un Natale diverso dagli altri anni. Il sindaco Michele Apolito, non potendo fare il consueto giro prenatalizio nelle scuole a causa della chiusura delle strutture dovute all'emergenza epidemiologica, non ha rinunciato a far sentire la sua vicinanza attraverso una tradizione che dura nel tempo. A partire da ieri, 21 dicembre, come già stato fatto a Pasqua durante il primo lockdown, sono stati consegnati a domicilio direttamente dagli amministratori comunali dei pensieri golosi a tutti i bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria. Il tutto si è svolto nel rispetto delle normative vigenti anti-covid e secondo le dovute precauzioni. Si tratta di un gesto di vicinanza, si legge dalla pagina Facebook del comune di Ogliastro Cilento. L'arrivo dei regali susciterà sicuramente quel pizzico di emozione e curiosità nei bambini, un nuovo pacco da scartare che non si aspettano, qualsiasi cosa esso contenga, insegnando agli adulti ancora una volta quanto i piccoli gesti siano realmente grandi.